Gli uomini si interrogano sul proprio destino. Qual è il senso di questo nostro viaggio? Intanto Achille veloce seguiva Ettore, senza riposo, incalzandolo. Là i due correvano, uno fuggendo, l'altro inseguendo. Tutti gli dèi guardavano. Non fugo più davanti a te, figlio di Peleo. Là Achille glorioso lo colse con l'asta mentre infuriava e con la punta traversò il morbido collo. E mentre parlavo, giunse la nave ben fatta all'isola delle sirene che la spingeva a buon vento. Ed ecco a un tratto che il vento cessò. Addormentò l'onde un dio. Ulisse Ferma la nave Vieni ad ascoltare la nostra voce Così dicevano Alzando la voce bellissima E allora il mio cuore voleva sentire E imponevo ai compagni di sciogliermi Con i sopraccigli accennando Ma essi con nuovi nodi mi legarono ancora più stretti E continuarono a remare Chiunque tu sia Che in armi ti volgi verso questo fiume Dimmi perché vieni E lì fermo Trattieni il tuo passo Questo è il luogo di ombre Di sogni E di soporosa quiete Che in armi ti volgi verso il nostro chino Grazie a tutti.